date sul calendario quelle in cui luglio, agosto e settembre si stringono in un unico numero quelle in cui sono aggrappata alla trave e sospendo in estasi in bilico come l'atteso nel forse come se tutto fosse possibile vita e morte succede accado in quel tempo ristretto nel salto sfido l'abisso in vertigine verticale quando lecco la lama in equilibrio non sono più viva di una civetta impagliata grazie a tutti 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 Grazie.